Com'è nata la scelta, com'è ricaduta la scelta Suemi? Mi aveva presentato il suo agente, cercavo all'ultimo momento, sai poi purtroppo quando si preparano le cose ci si riduce sempre all'ultimo momento, ci siamo accorti qualche giorno prima di partire per l'inizio delle riprese che ci mancava la vittima preferita, e quindi ho fatto velocemente dei provini il suo agente mi ha proposto delle ragazze, io cercavo una ragazza giovane, fresca, carina e ho visto lei e me ne sono innamorato subito, infatti l'ho presa immediatamente Emi, però vorrei dire da te Per me è stata fantastica questa esperienza perché nasco come ballerina e come cantante, non nasco come attrice quindi mi sono messa in discussione sotto questo fronte, Pierfrancesco me ne ha dato l'opportunità e ne sono stata veramente fiera e contenta e sinceramente è una storia che non mi può colpire perché ho 21 anni la vivo e l'ho vissuta attraverso mia madre che mi ha raccontato questa sua esperienza del terrore di uscire di casa appunto di questo individuo poi non è identificato però sì, mi ha divertito, in quel momento può mettere anche un po' di inquietudine perché bene o male lo spareggio me l'hanno fatto e poi cerchi di calarti nel personaggio ovviamente non lo puoi vivere perché poi il taglio si lava no, vedi infatti no, non ce l'ho non lo potete vedere però non ce l'ha il taglio però sicuramente faceva un po' senso e devo dire che la truccatrice è stata bravissima perché sembrava vero fantastico vogliamo ricordare la truccatrice? eh sì c'è un momento di ammessia però adesso non andiamo avanti se non ricordiamo la truccatrice per forza ci limitiamo a dire che adesso era veramente brava bravissima e niente spesso si lavora insieme e poi, no no, comunque era veramente tutto vero quindi lui poi ha, insomma, sì è molto professionale, molto attento e c'era agitazione sul set però nonostante questa sua grande professionalità devo dire che Pierfrancesco mi ha fatto sentire a suo agio mi ha dato le indicazioni giuste è stato un ottimo inizio un ottimo inizio che poi ovviamente mi ha portato fortuna perché sono stata chiamata a io pago, al bagaglino e quindi da lì è iniziata la mia carriera quindi, insomma, devo un po' a tutta questa storia vero Pierfrancesco? sì 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 ti sei isolato, stai pensando al nome della truccatrice no, c'è quelle amnesie improvvise che poi tra l'altro è una mia carissima amica tra l'altro e in questo momento sarà l'emozione del microfono tu devi sapere, i microfoni di Radio Roma emozionano incredibilmente sì, sarà quello ma è quello allora io dopo una trasmissione radiofonica per una serata io, pensate, una memoria incredibile per i numeri, per il bankomat no? sapete, per una serata non sono riuscito a usare il mio bankomat perché ho un'amnesia totale vero? Ma capita, a volte capita non mi era mai successo ho avuto dei seri problemi quella sera bene, a questo punto io direi che ci fermiamo per qualche minuto e per, cioè, per pochi se... per ricordarci il nome della truccatrice adesso andiamo subito a telefonare no, va bene adesso ci ricordiamo anche il nome della truccatrice però nel frattempo incompe la pubblicità perché è una cosa di rigore proprio una... posso annunciarla? l'ho sempre desiderata annunciare la pubblicità fallo anche a Radio Roma, vai posso? allora, per Radio Roma, pubblicità! pubblicità Radio Roma Radio Roma bene, ecco la pubblicità che tra l'altro è stata sicuramente molto più ascoltata perché è stata annunciata da Amy ritorniamo ancora in studio sì ecco, a un certo punto ci sento di tutto veramente però a questo punto io direi una cosa è bello della diretta no, no, dato che abbiamo scelto noi ogni settimana, ogni puntata scegliamo una colonna sonora di un solo artista in genere un cantante, un cantautore oggi è soltanto musicale effettivamente perché dal carissimo amico tra l'altro mio di Radio Roma Claudio Simonetti autore delle più grandi musiche dei film di Dario Argento da Profondo Rosso a Suspiria Opera, Inferno Demon, eccetera, eccetera Tenebre, Fenomena a questo punto io vorrei ascoltare perché oggi abbiamo scelto con una colonna sonora proprio le canzoni le musiche di Claudio Simonetti e dall'album che ha scritto qualche anno che ha inciso qualche anno fa che appunto è Tributo da Regento prima lui era il rappresentante principe diciamo dei portavoce dei Goblin poi ha fondato questo nuovo gruppo che si chiama Idemonia e adesso le serate lui fa spettacoli proprio con questo gruppo e appunto io intanto saluto Claudio perché è stato più volte ospite qui tra l'altro ha avuto dei piccoli problemi di saluto ultimamente ma presto sarà di nuovamente qui con noi e perciò ci ascoltiamo proprio da questo album che è stato arrangiato poi in maniera particolare insomma rispetto a quelle che erano le precedenti registrazioni e ci ascoltiamo proprio la canzone forse che gli ha dato più la musica direi che gli ha dato più successo sicuramente l'ha fatto più conoscere appunto Profondo Rosso che è la sigla appunto dell'omonimo film appunto di Dario Argento il tema portante il tema portante è la corona sonora la sigla la sigla normalmente si usa per le trasmissioni televisive per un film si parla di tema e Marianna Zambenedetti chi è Francesco? ma è la truccatrice del film naturalmente noi lo sapevamo era una finzione era tutto un gioco ma a chi pare che un regista e un'attrice non si ricordano il nome della truccatrice ma dai ma abbiamo fatto questo scherzo ma abbiamo fatto d'altra parte sennò diventa una trasmissione troppo seriosa se invece a noi ci piacciono così informali e Francesco come nei film deve lasciare questi patos è certo ho visto il backstage ieri guarda veramente chiedeva una risata da pazzo l'attore era meglio la mia però comunque a questo punto ascoltiamoci ascoltiamoci appunto dal Claudio Simonetti da Demonia appunto il gruppo musicale capitano da Claudio Simonetti Profondo Rosso indimenticabile musica quella di Profondo Rosso del maestro Simonetti tra l'altro realizzata in questa occasione tratta proprio da una tributa da parte di Demonia che sono appunto il gruppo con cui Claudio Simonetti che in questo momento di cui è portavoce è parte principale leader anzi accogliamo l'occasione per salutare Claudio Simonetti ciao Claudio non è mai abbastanza lui è un grandissimo autore di colonne sonore è un grandissimo musicista ed è una persona squisita bravissimo prima si è una persona squisita poi si è un grande professionista perché le tue cose secondo me vanno di pari passo sicuramente i veri grandi sono anche le persone più umili più alla mano e più semplici certamente come per Francesco Campanella certo certamente era quello che volevamo sentirci dire era fatta apposta infatti bene io ringrazierai ancora la Marianna Zambenedetti che ha fatto dei trucchi speciali bellissimi su Emi Bergamo ha fatto dei tagli veramente sembrava una cosa impressionante comunque ricordiamo che stiamo parlando di Tagliacorto che è un cortometraggio diretto da Pierfrancesco Campanella prodotto da Massimo Esposti è realizzato da dalla Belfilm dal Belfilm sì come produzione però è stato scritto da Lorenzo De Luca Lorenzo De Luca ricordiamo gli interpreti di Elisabetta Rocchetti Cosimo oltre Emi Bergamo chiaramente che è qui presente con noi Cosimo Fusco perché hai detto così non dovevo dirlo sì sì ok dai ora non è che se ti faccio un gesto lo dobbiamo dire subito insomma no ma Radio Roma è una radio molto free ma scherzo come se si vedesse mi sento a casa veramente noi cerchiamo di far vivere la scena in qualche modo giustissimo a volte io dico arrivederci però forse non è sbagliato giusto io chiedo sempre le conferme perché è molto critico una volta con la fortuna di averlo qui in studio voglio chiedere a lui l'hai detto sì che è una fortuna come l'hai detto ma è un critico perché vuole le cose fatte bene adesso mi dirai come sul set come regista Elisabetta Rocchetti comunque ricordiamo Cosimo Fusco Manuel Oliverio Alberto Marino che è una che faceva lo speaker mi sembra e Giampiero Corica che fa il maniaco quello che doveva fare la risata da pazzo chiaramente perfetto che poi è rimasto sfregiato tra l'altro non devo raccontare e no che facciamo raccontiamo le cose e per la prima volta sullo schermo Evie Bergamo per la prima volta sulla sulla